...in comune a questo, a ospitarli, uno scrittore per ogni mese in una scuola o più scuole della città di Bernardo. Per tutti i 12 finalisti, quindi non riguarderà soltanto chi andrà nella cinquina, ma lei sta estendendo a tutti i finalisti. Il rapporto tra letteratura e didattica e soprattutto calare nella realtà didattica la scrittura è un'idea straordinaria, perché come dico io, attraverso la letteratura non si allarga solo la cognizione, ma si allarga la vita, perché si vivono tante altre vite in più, si possono fare tanti viaggi in più che nel privato non è possibile fare. E poi diciamo un'altra cosa, che era un po' l'idea di Don Milani, che era quella che la scuola deve pensare agli ultimi, soprattutto in tanti diseguaglianzi che ci sono, altrimenti è come diceva Don Milani, è come un ospedale che cura i vivi e invece lascia morire quelli che hanno bisogno purtroppo dell'attenzione ospedaliere. Quindi la stessa cosa vale qua, dalla possibilità a ragazzi, verso cui a volte c'è un broncio un po' di riverenza naturale o istintiva, o magari disattenzione da parte delle istituzioni, che possano godere come gli altri, in modo tale a mettersi sullo stesso piano, c'è San Paolo, start di partenza, tutti quanti allo stesso modo. Questa è la grande occasione che dobbiamo offrire, perché questo è giusto che facciamo come società.